Buongiorno a tutti, dottor Michele Cotugno, responsabile dell'unità di urologia della casa di cura Salus di Brindisi. Quest'oggi con il dottor Antonini abbiamo eseguito tre impianti di protesi peniera con accesso infrapubblico mini-invasivo, tecnica veramente molto molto interessante, riduce il tempo operatorio, riduce il sanguinamento, veramente interessante, sicuramente da riprodurre anche in altre occasioni e per questo ringrazio Gabriele, un'ottima esperienza chirurgica.